Calma, vai, via! Mentre apposta la scaletta per cui si esige. Non vi agitate perché c'è la ferma. Punta centrale, esterno alto. Cadiamo sotto, non ha un problema, lavoriamo in questa maniera. Punta centrale, metto la scala ai due centrali. Se lui ha la palla e lo direzionato verso di là, io gli impedisco solo questa giocata. Quindi da andare sull'altro braccio. Stessa cosa. Metti apposto la scaletta. Gira a palla al braccio. A questo punto noi dobbiamo fare in questa maniera. Non quando lui riceve la palla. La porta, la porta, la porta anche a un momento in cui dobbiamo scalare. Quindi, quando questo... Hai paura? Vai! Io! Io! Buono, stop! Buono, stop! Buono, stop! Grazie a tutti.